Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Al 15 novembre anche il termine per richiedere i buoni libro. Le famiglie con reddito ISEE fino a 10.632,94 euro possono presentare domanda online tramite il portale di Roma Capitale. E ancora si tiene fino al 13 dicembre in alcuni luoghi della capitale le vie del festival con spettacoli teatrali ma anche performance nel centro storico e passeggiate culturali nei parchi. Grazie a tutti.